Foggia Pescara è già uno snodo importante. Dirà in modo chiaro se il pesante K.O. subito con la Brescia è stato figlio di un incidente di percorso o il segnale di un calo preoccupante. Dopo l'iniziale fiammata contifatti illusoria è stato un autentico monologo lombardo. Nella ripresa prova sì d'orgoglio ma a partita già compromessa. Il problema è solo uno, la mancanza di compattezza tra i reparti. Se il pescara vuole tornare ad essere protagonista così come è accaduto nel girone di andata deve difendere di squadra ciò che è mancato soprattutto nel primo tempo col Brescia. Piuttosto esplicito Beppi Pilon a prescindere dal cambio di modulo. I moduli non risolvono le partite, possono aiutare, sono la base. I moduli aiutano i giornalisti a svariare, a destra manca durante la settimana e dire facciamo così, facciamo così. Ma di là dei moduli, un'altra componente che secondo me è determinante, quello che abbiamo dentro, il cuore che ci mettiamo dentro, quello che è fondamentale. Lo spirito di rivalsa, la rabbia che abbiamo accumulato in settimana per i cinque gol che abbiamo preso. Dobbiamo tirare fuori tutte queste componenti, tirare fuori a di là di tutto ma una rabbia agonistica, tiriamo fuori i coglioni. Insomma è ora che da questo punto di vista bisogna essere uomini, andare in campo e fare quello che dobbiamo fare. Assolutamente d'accordo con lei però insomma un fatto è certo, vedremo insieme Monachello e Mancuso dall'inizio. Mi pare scontato questo o no? Sì, credo proprio di sì, loro due ci saranno. Lo sai che ha suscitato secondo me qualche perplessità, riferisco al primo tempo col Brescia. L'inizio è stato positivo, il Pescara ha avuto due grandi opportunità per sbloccare la situazione. Poi però mi è sembrato in balia dell'avversario ma perché la squadra era lunga e larga. No, è successo questo, fino ai primi 20 minuti abbiamo fatto secondo me bene la gestione della partita. Assolutamente. Perché potevamo fare due gol e non c'era niente da dire. Dopo il ventesimo abbiamo preso il rigore, la squadra ha voluto reagire immediatamente invece di far passare quei dieci minuti di buon disbandamento e lì loro ce ne hanno approfittato. Cioè non ha usato la testa diciamo? Non l'abbiamo usato, non l'abbiamo gestito bene in quella situazione. Nel senso che non dovevamo assolutamente sbilanciarsi così perché hai fatto il loro gioco. Dunque si cambia, 4-5-1 in soffitta, sarà 4-3-1-2. Marras tra le linee alle spalle del tandem ad attacco Mancuso-Monachello. Brugman regista, Memusciai e Melegoni-Mezzeali in difesa, fuori per squalifica Gravione del Grosso, Ciofani a destra, Balzano a sinistra, soprattutto il rientro di Ugo Campagnaro a tre mesi dall'ultima partita disputata a Palermo dall'Argentino, prima dell'ennesimo infortunio di natura muscolare. Per contro il Foggia, privo di Ngawa, dell'ex Chiaretti, Camporese, Zambelli, Tonucci e dello squalificato Gerbo. Pasquale Padalino in carica dalla 23 dicembre. Una sola vittoria a Carpi, 3 KO, due pareggi, l'ultimo dei quali ottenuto a Palermo. In casa non vince dalla 14 dicembre, 3-1 contro la Cremonese. In panchina però c'era Gaetano Pavone, figlio di Peppino, ex calciatore di S Bianchezzuro, promosso per una sola partita dalla primavera, dopo l'esonero di Gianluca Grassadonia. Padalino confermerà il 4-3-3 in difesa Loiacono al posto di Ngawa, a centro Campagnelli per Gerbo. Davanti Galano e Kragl a supporto di Iemmello. Pescara è una squadra che ha delle qualità, non le scopro certo io, lo ha dimostrato soprattutto nel girone d'andata. È in un momento di non continuità, soprattutto nei risultati, ma nella propria identità. Sono sempre gli stessi, avranno delle assenze che probabilmente incideranno, però sono partite così importanti che bisogna andare oltre. Quindi io non considero il Pescara meno forte perché manca Gavillon e Del Grosso e credo che anche loro faranno lo stesso. Quindi una squadra di tutto rispetto che ha delle qualità importanti, non solo da un punto di vista individuale ma anche come collettivo, quindi sarà nostra premura avere la massima attenzione come è stata a Palermo perché per noi diventano tutte Palermo, perché non possiamo permetterci di guardare gli altri in casa propria, dobbiamo guardare in casa nostra e avere questa facoltà e questa fiducia di interpretare al massimo quelle che sono le gare che andiamo ad affrontare, con un unico obiettivo ovviamente di fare una prestazione importante, sicuramente da caratterialmente risposte sempre decise a voler fare il risultato, che poi può anche non venire, ma non può mancare quel desiderio di fare il risultato, con le buone o con le cattive, con il bel gioco, con il cattivo gioco, importante è la sostanza e per fare questo abbiamo bisogno di tutti i componenti e di avere questo tipo di mentalità. Ho visto che ho fatto una buonissima partita a Palermo, ho giocato molto bene dei giocatori come Galano, Kragl, Iemmelo che sono bravi davanti, Kragl che ha una botta, ha un tiro da fuori aria notevole, anche sulle punizioni è molto bravo, perciò dobbiamo stare molto attenti a queste cose qui, mentre Galano è inventiva, bravo uno contro uno, chiude bene la porta, sì che Iemmelo è un giocatore ritrovato, nel senso che è sempre pericoloso dentro l'aria.